Buongiorno a tutti ragazzi, ho deciso di fare questa live estemporanea perché mi è venuta in casa, non so che a qualche anno più dei ragazzi di oggi, circa la mia età, sui 50 o anche 40, si ricorderà sicuramente degli anni 90 e di questa canzone, quelli che ben pensano, che diceva Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio Ve la ricordate questa canzone? Poi continuava con una serie di storie interessantissime che dicevano esattamente come era la società di allora e spiegava l'ipocrisia della gente, no? Ora, questa canzone, riattualizzarla adesso, è vero che le canzone non hanno tempo, questa canzone, risentirla adesso è attualissima, no? Sono come me, ma non parlano con me, sono come me, ma si credono meglio, chi si credono meglio, no? Quelli che adesso mandano le armi, che mandano le armi però dicono di essere pacifisti, si credono meglio loro, no? Quelli di sinistra, quelli che pensano di essere meglio di noi, no? Oppure se ritorniamo indietro di due anni, sono come me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio? Perché loro mettevano qualcosina che io non ho messo, si facevano qualcosa che io non ho fatto e non cambia assolutamente niente, mi sarebbe piaciuto sapere cosa ne pensate voi, mettetelo nei commenti ragazzi, sarei curioso di sapere, o scrivete nella live, cosa ne pensate del popolo italiano, è cambiato negli ultimi 50 anni? Per me assolutamente niente, è cambiato solo una cosa, che mentre prima erano i ben pensanti che parlavano male, adesso è proprio, non pensa più la gente, è questo il grosso problema. Un abbraccio.